Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale 53esima missione di GTA V Come sapete non so mai dove si va a cogliere quando si fa le missioni, quindi dico le cose sempre con cautela So per certo che abbiamo finito un mucchio di macchine che è stata una missione fighissima Purtroppo sto gioco bastardo non... mi piace darci il 50% massimo 65 Però, a parte quello ragazzi, dovrebbe esserci appunto carne fresca oggi Perché Michael è stato rapito dai cinesi E poi ci avvieremo verso il colpo al bureau Perché ovviamente non ci pagano Non hanno pagato i nostri personaggi riguardo a tutto il lavoro che hanno fatto con le macchine E allora, se i soldi non vanno a GTA, GTA va dai soldi Like, iscrizione e tutto quanto ragazzi, come sempre passiamo a Los Santos Allora, siccome so che questa missione, da qualche ricordo, potrebbe arrivare praticamente in maniera molto repentina Mi sono tenuto subito sulla coda della missione scorsa Capitalismo È crisi E non è dei comunisti questa Comune Ok, è così che abbiamo avuto notizie di Michael Notizie di Michael, vabbè Aspettiamo prima di usare questo Eufemismo Allora Minchia, è lontanissimo 10 km Tra l'altro con una macchina così scacciosa come questa qua Sarà un supplizio Vabbè Piuttosto che chiamarlo Ciao E se dovessi per sbaglio incontrare un taxi Lo prenderò Altrimenti Ci faremo coraggio e andremo avanti Fino alla meta Se tutte le volte che passo di qua c'è quella figura che chiede aiuto Poi se mai ci penso adesso Testa Anima e corpo A finire la storia principale Che comunque è un 60% 50% Non ricordo quant'è Se completi solo la storia Però piano piano ragazzi Arriviamo a tutto Piove col sole Bellissimo Dai però Con una macchina così rispetto al camion di prima Dai 3 km li abbiamo già macinati Eh si corre Si corre Eravamo praticamente Quasi al punto più nord della mappa E la missione scorsa eravamo partiti Da casa di Lamar più o meno Con un camion che va pianissimo Pensate voi quanta strada abbiamo fatto Comunque vi vorrei dire che Manca di circa un chilometro All'essere a metà strada Quindi È affrontabilissimo Assolutamente 17.05 Faremo questa missione di Sera ma Praticamente credo sarà chiuso Una cosa così Forse Bom La confondo con Dead Man Walking Perché È veramente simile come missione Michael che viene rapito Poi viene trovato Si sveglia Cose varie Molte volte capita che ci siano missioni Molto molto simili Come per esempio GTA 4 No way on the subway E Quella come si chiamava I need your clothes Your boots And your motorcycle Sono molto molto simili Ci stiamo addentrando in città Vedo già Gli skyscrapers Lo sfondo Uuuuh Come trema anche Joystick raga Dai Due chilometri mini Anche affrontabile Pensate un po' Se avevamo la macchina Di Franklin Era ancora più veloce La cosa Immaginate Sbatto da qualche parte Muoio No 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 Non me la devo tirare Dai siamo quasi arrivati 700 metri Cazzo Ok Casa di Lamarra Casa vecchia di Franklin Ah via Peggio ancora Beh vanno a fare running Con questa pioggia Sono anche molto intelligenti Eh Shut the fuck up Thank you Oh my n word What's up homie Is that how you act When a friend makes a mistake No Really Oh so what It's just me getting hurt Is that funny No man Well fuck you I'm gonna put you in the fucking ground You laugh at me again Well calm down I have met a lot of assholes In my life But you Well you're not long for this world If this is the way you fucking act You Anche lui Motherfucker Perché sta andando a salvare Michael Solo per questo Però con me è realistica la pioggia Con l'aggiornamento per PS5 Già già al pugno chiuso Trevor Ah per una battuta Ma sta a vedere te I accept Your apology Ok All right So Let's hug it out Let's hug it out Mm-hmm Ah Right You're fucking gotcha Fuck no I'm not funny Fucking asshole Oh Fuck I had a difficult Childhood Childhood Damn man you all right I'm just fucking on edge You know Look I love you right But I would've I would've Just Fucking Look man Lester said you had some information for us about Michael Michael Fuck Michael I hope he's dead Man I know y'all too Man come on man You two had beef before But what the fuck happened in North Yankton Somebody pinched him man Who Friend Ron met these Chinese assholes They're from Yangshan in China They had some problems They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped Yeah And now it looks like they holding him somewhere in the city Yes Come on bro Well go fuck yourself You want that piece of shit That's your fucking business All right He's dead to me All right And chances are If and when I see him He's gonna be dead To everyone else as well Hey come on bro Don't do that You're pushing your luck pal What was that? What? What was that? Uh nothing Trevor Ma l'ha stordito Cioè L'ha fatto fuori E l'ha rotto tutte le ossa del viso Hey It's me What did Trevor say? Man Michael is being healed by a Chinese crew Because of Trevor The irony isn't lost I'm sitting with you I'm sitting with your phone Michael's cell just came back online This will track it signal It'll work better the closer you get Be careful Sure Eh insomma Non se la passa bene He ain't my gila Don't try to persuade me You're not lovers He's laughing at you You fucking idiot You're making a mistake It costs a lot of money To track you down I'd record And then you kill several good men Good day huh Good day Good fucking day to you Come si sarebbe potuto difendere no? Oh scusa No hey 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 Let me down Let me fucking down Justamente perché sta sopra Terra Allora tra chi fai E' un po' di più Ah Esattamente come quando si fece quella missione con il sommergibile dove si doveva Cercare qualcosa Sott'acqua che non ricordo cosa fosse Dobbiamo adesso trovare Michael Allora Sì non ti preoccupare Emo ci arrivo Per fortuna il tempo scorre molto piano E' assai affrontabile la cosa E' qua vicino Dovebbe essere qui appunto Get in qui Mmm qui un cazzo Oddio è più avanti Mi sono sbagliato con una missione di GTA Online Già Attenzione che Franklin non ha l'abilità di sparare E tira fuori l'arma Sicuramente ci metti qualche secondo in più di me che ce l'ho già fuori La testa La testa cinese Per fortuna la striscia del tempo non c'è più Non so quanti colpi la testa avrò già totalizzato Erebbero essere tanti come pochi Ho detto con la voce di Liga VR Bello Questo è andato a segno Anche abbastanza easy Anche questo Se non c'è l'obiettivo colpi la testa Io mi ritiro C'è proprio cancello la serie Ma non la cancello però Sarebbe veramente uno smacco assurdo E penso di averne messo a segno di un altro Uuuuh Uuuuh E ho preso il kit medico Praticamente quando ve lo saluto al massimo Senza tenere conto che qua c'era pieno Di cinesi Parli un altro Immaginate tipo cascarsi lì dentro No Testa No 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 lo sta macellando Pazzo Anche qua colpo la testa Dovrebbe essere già morto Pazzo E adesso andiamo a sparare sotto sopra Devo cercare di prendere I La testa Ma non è per niente semplice Ah la ricarica Buono Testa Testa Non mi dovete più cagare il cazzo adesso Davvero Davvero Testa 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 Oh cazzo Sarà difficilissimo adesso No A posto Stava ricaricando Ho visto la morte in faccia Che botto di schiena io morirei Comunque perché c'è il segnalino? Non lo voglio il segnalino Oddio Ma è Michael questo? Oddio Che ritardato che sono Questa è uguale a lama Pesco In testa Pesco 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 Ok Testa 100.000 colpi ma l'ho preso Ok, beh, dovremmo essere ormai in fondo alla missione. Via, 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 via. Non c'era neanche bucato la ruota benissimo, però ci inseguiranno sicuro con la macchina. Non posso... ...bandare il personaggio. La gente è impazzita. Via. Vabbè, questa... ...questa è sfiga, però! Questa è sfiga, però! No, vabbè. Il contorsionismo... Vabbè, le macchine che... ...di si catapultano addosso. No, l'ho fatto fuori. Sono schiantati, il che non è a male. Oddio, ma... Come cazzo viaggia la gente oggi? Eh no, sono sempre dietro. Non ho più granate addesive. Bene, ora li salite in macchina così perdete tempo, bravi. No, la ruota! L'avevo detto all'inizio, invece. Cioè, qua l'ha fatto davvero. Ma Maicon non può sparare, eh. Sono arenati, perfetto. Speriamo non prenda fuoco la macchina. Vabbè, avrò fatto il 50%, sicuro. Sicuro, ragazzi. E scommetto quello che volete, non c'è l'obiettivo colpi alla testa. No. Anche tu spostati, no? Anche ho distrutto la macchina. Non c'è l'obiettivo, non c'è l'obiettivo. 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 Povera coca. E non può andare allo Santos Custom durante la missione. Comunque, sani salvi. Non c'è l'obiettivo. Allora, vedo. For sure. Hey, you sure you don't want to come in? What, your big empty ass house? Dog, I'm depressed enough already. All right. No. Thanks. Look, man, before you go. What the fuck happened up there? I said, Trevor went crazy, tried to kill me. I got jumped by the Chinese. Man, before all that, I'm talking about the faith. Trevor, this guy Brad, man. I know what you meant. All right. Look. I made a judgment call. I don't know if it was the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an hour. A future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Look, you wake up one day and your legs, they just give. You just can't run anymore. All right, man. Look. You watch your back, all right? When Trevor finds out you're still alive, I don't know what the fuck he gonna do. Don't worry. You're not gonna get near me. Hey, insomma. Trevor è capace di tutto. Oh, it ain't me he coming for. We straight, it's you, dog. Oh, it's you. I'm just saying. Ciao, Fentra, è in casa? Bene. Dai. Si è risanato abbastanza bene. Ok, beh. Per questo abbiamo finito. Kit medico. E io vi posso anche salutare la prossima missione per Solomon. Da fare con Myhole. E ci vediamo, ragazzi. Grazie di tutto. Lasciate like al video. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. che dovrebbe essere di pulire il biuro. Vedo che anche la missione per Solomon, quindi ha senso. E ragazzi, grazie della visione. Alla prossima. Bacione da altri. Statevi bene. Bene. Noi ci vediamo. Grazie. Grazie difficile. Grazie.